Ragazzuoli se volete potete supportarmi su Fortnite nella posita sezione supporto un creatore con il codice free trattino gaming con il 3 al posto della prima e e ogni vostro prossimo acquisto supporterà anche il mio canale. Tutto il ricavato verrà utilizzato per fare dei giveaway e dei contest in live sempre sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzuoli. Allora piccolo annuncio vi volevo dire che questa sera alle 9 siamo in live sul mio canale Twitch link in descrizione la prima live di ieri è andata stra bene e oggi ripetiamo l'esperimento 8 e mezza 9 ci becchiamo in live su Twitch quindi per passare un po' di tempo insieme a giocare e fare provini quindi ragazzuoli se volete vi aspetto. Andiamo a fare un attimo un velocissima puntata nello shop dove c'è la case il skin quella che abbiamo preso l'altra volta eccola qua best mode hanno rimesso il cavaliere del ragno discreto e a molla questa è la nuova geniale bellissima ragazzi. Un'emote fantastica io la devo prendere per forza perché è veramente veramente figa mi piace un sacco. Vabbè 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 allora allora ragazzuoli adesso hanno si sono inventati queste grafiche le mettono ogni tanto all'interno delle cose so fighe anche da vedere particolari. Allora ragazzuoli vi volevo dire comunque che andremo a ecco qua vi volevo parlare di alcune cose la prima è della nuova modalità che andranno a mettere su Fortnite quindi the floor is lava confermata molto particolare non si sa ancora bene cosa e cosa succederà. Non credo ci sarà tutto pieno di lava non credo però cioè mai dire mai quindi non lo so the floor is lava ecco la junior alture costruisce solo la lava che sta invenendo l'isola. What? Non lo so ma non vedo l'ora di scoprirlo e sarà presto disponibile probabilmente con la nuova prossima patch quindi staremo qua ad aspettarla e vederla insieme. Un'altra cosa che volevo farvi vedere ragazzuoli è il parco giochi andiamo a vedere insieme perché vi volevo parlare anche di un elicottero. Madonna l'elicottero. Ebbene sì ragazzotti di un elicottero che sta spostandosi all'interno della mappa di Fortnite e questo potrebbe portare riportare a qualcosa non so bene ancora come cosa e perché ma sicuramente qualcosa di particolare c'è. E adesso lo andiamo a vedere insieme all'interno della mappa. L'elicottero era partito da Palmetto Paradisiaco dalla zona desertica diciamo in verità stava c'era st'elicottero e va bene. Si è spostato ha fatto diverse tappe e adesso si trova nella zona nevosa. Eccolo qua ragazzuoli lo trovate proprio qui c'è picco polare e qui c'è l'elicottero. Eccolo qua allora qui c'è un sottomarino. Sorvolando sulla surrealtà di vedere un sottomarino sopra una montagna. Atterriamo e andiamo a vedere l'elicottero. Capiamo un po' che cosa c'è di particolare in questo elicottero perché ci sono diverse cose interessanti da vedere. Ma che cosa che si nota a parte la texture buggata là in fondo dell'elicottero è il binocolo che c'è lì in mezzo. C'è un binocolo che non so a che cosa possa servire. Certo è atterrato in uno dei posti peggiori. Questo binocolo e vediamo che cosa si vede dal binocolo. Ci sono io che salto. Quindi è come uno specchio in verità stesso sistema dello specchio. Anche se si vede una zona che sembra quasi collinare. Che non è, vedete non riflette quello che c'è dietro. Non si vede picco polare da lì. E sarebbe un'altra cosa quella che si dovrebbe vedere. Ci sono quattro strade che si incrociano. Non è per niente picco polare quindi già questo. E' un bel indizio interessante. Un'altra cosa. Su Fortnite sono presenti tantissimi veicoli che non sono disponibili. Per esempio ci sono anche il sottomarino. In primis anche se è dirocato. Le auto, tutti i vari veicoli. A parte quelli che sono utilizzabili. Però comunque si vedono spesso. Trattori ci sono. Ecco però sono tutti dirocati. E questo non ha segni di usura. Pertanto è funzionante. Per questo si sposta all'interno della mappa di Fortnite molte molte volte. Chissà quale sarà la sua meta, la sua destinazione e effettivamente il suo scopo. Per che cazzo si muove l'elicottero? Che cosa è venuto a fare? Noi possiamo ovviamente distruggerlo. Non possiamo entrare dentro. Ma possiamo distruggerlo. Vedete? Ha una vita che è a 1200. Quindi potete tranquillamente distruggerlo l'elicottero. Ragazzi io non lo so. Non lo so che cosa sarà, che cosa non sarà, che cosa servirà o meno questo elicottero. Nessuno può dirlo, ma non vedo l'ora di scoprirlo. Perché sicuramente qualcosa accadrà. E tra poco lo vedremo. Magari proprio con la patch che uscirà martedì. Io ovviamente voglio sapere la vostra in merito a tutto questo. Per quale motivo questo elicottero sta qua. Possiamo provare a distruggerlo se volete. Vedete? Vabbè le solite crepe vengono fuori. Ha un botto di vita. Ah e questo? No. Ok. Questo rimane qua. Wow. Non so se ci fosse già stato, se ci fosse già prima, da prima che mettessero l'elicottero oppure no. Non lo so, non ne ho la più palle di idea. Però lo scopriremo sicuramente nel corso del tempo. Non vedo l'ora che questa roba abbia un seguito. Quindi ragazzuoli. Penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto. Quello che volevo dirvi ve l'ho detto. È soltanto in merito a questo elicottero e comunque sono molto curioso di sapere cosa possa nascondere. Perché vi giuro, io non lo so. E secondo me, è qualcosa di figo sicuramente. Perché comunque Epic Games ha sempre fatto roba figa. Spesso in sordina magari, non come il cubo. Che, ok, il cubo era incredibilmente chiaro. Che ci fosse qualcosa proprio inerente a qualche evento fisico. Perché comunque si muoveva, si è generato e faceva casino. Questo è una cosa che non si vede spesso. Cioè, non crea grandi cose a livello del gameplay. Perché comunque è semplicemente una struttura o un item. Come se mettessero una macchina che gira. Qual è la sua cosa? Cioè, che cazzo gli serve? Niente. Però potrebbe, secondo me, rivelarsi utile in futuro. Non so per quale motivo. Quindi, ragazzuoli. Penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciate un piaccio se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Di supportarmi come creatore. In supporto a un creatore. Free. Trattino gaming. Perché scade, ricordatevi. Dopo due settimane gaming scade. E quindi va riapprovato. Eccolo qua, free gaming. Mi raccomando. Dove vedete qua il codice creatore. Eccolo qua, free gaming. Tra l'altro, vi ricordo anche che oggi pomeriggio, questa sera, alle otte e mezza, saremo in live su Twitch. Sul mio canale Twitch. Trovate il link in descrizione. Quindi mi raccomando, non mancare. Ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.